La San Giovanni che verrà raccontata ai cittadini. Tre incontri aperti alla cittadinanza, il 7, il 16 e il 29 novembre, in cui il sindaco e la giunta presenteranno dei progetti ritenuti strategici per lo sviluppo futuro della città. Occasioni di confronto durante i quali saranno raccolti anche consigli e suggerimenti. Come abbiamo fatto anche nei cinque anni precedenti di consigliatura, torniamo di nuovo dai cittadini per presentare tre progettualità importanti di risorse che ci siamo aggiudicati appunto nei cinque anni precedenti. Soprattutto il grosso progetto europeo tra natura e cultura contributi per 9 milioni e mezzo e ci consentiranno di sviluppare i cinque lotti importanti. Due di questi progetti li presenteremo il 7 di novembre e il 16 di novembre. Il Senior Housing di Via Milano, quindi nella sede dell'ex asilo storico di San Giovanni Valdarno e il progetto importante del Lungarno Don Minzoni, quindi il Lungarno e il Parco dell'Arno. Per cui l'invito è ai cittadini a partecipare perché si sono chiuse le progettazioni e prima di andare in gara con i progetti vorremmo appunto acquisire eventuali suggerimenti. L'ultima presentazione per questo anno, il 29 di novembre, sarà relativa alla Casa di Comunità. La Casa di Comunità, che sorgerà in Via Le Gramsci e che presenteremo insieme alla ASL il 29 di novembre. Tutti gli incontri saranno a Paloma, a Casa della Cultura o dopo cena o nel tardo pomeriggio. Per quello che riguarda il progetto tra natura e cultura, gli altri due progetti relativi a Palazzo Corbole e Chiasi saranno presentati nei primi mesi del nuovo anno.